Buongiorno e benvenuti alla Sine Stampa di oggi, sabato 25 novembre. Le notizie di oggi partono, praticamente tutti i giornali parlano dell'attentato al Sine di 235 morti e una cosa ovviamente tremenda che dà il senso di come il terrorismo islamico che se la prende contro le porzioni del mondo musulmano che non hanno il loro estremismo sia un terrorismo cieco, incontrollabile, folle, da denunciare, poi dopo si possono fare tutte le considerazioni sul fatto che questa è la strage più grossa fatta in Egitto e nel Sine degli ultimi anni, ma resta il fatto che nei confronti di queste bestie di terroristi non si deve avere nessuna indulgenza, cose che ben sappiamo e già conosciamo da anni. Andiamo sulle questioni che riguardano più casa nostra e una delle questioni che mi ha colpito oggi è un pezzo di, mi sembra signorino, di malpica, di Massimo Malpica sul giornale perché in una riunione di ieri delle piccole imprese pare che Salvini, il segretario della Lega, abbia in qualche modo detto che parteciperà alla mobilitazione della CGL, cioè della Camusso, contro la cosiddetta riforma delle pensioni, che non è una riforma delle pensioni, è l'innalzamento dell'età pensionabile che avverrà in modo automatico grazie a una norma prevista da Tremonti, cioè fu il governo di Berlusconi con Tremonti a far sì che l'età del pensionamento coincidesse con o seguisse l'età, la cosiddetta speranza di vita. Questo la fece il governo di centrodestra, certo poi dopo è arrivata la Fornero che ha reso molto più in là e la possibilità di andare in pensionamento, oggi il governo ha cercato, spendendo 300 milioni, 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno nostri, ha evitato che questo valesse per alcune categorie per motivi particolari perché i loro lavori erano particolarmente usuranti. Oggi su questa vicenda per cui CISL e Will non ci operano e non fanno mobilitazione, la OGL per motivi prettamente politici per far sì di dare un colpo a questo governo da sinistra insieme a Bersani e a Delema fa una mobilitazione, ebbene l'idea che Salvini si leghi a questa mobilitazione è una cosa che mi fa impazzire, perché se questo è il centrodestra che si candida a vincere le elezioni a marzo, io mi chiedo che cosa avrà in comune questo centrodestra tra Berlusconi e Mercheliano, Salvini con l'acamusso, i fratelli d'Italia con la Meloni che pensa di essere un grande leader nazionale, perché oggi la Meloni pensa di essere un grande leader nazionale, il ministro della gioventù o dell'infanzia, non so, della gioventù, pensate un po' voi che c'era un ministro della gioventù nel governo Berlusconi e fu fatta Giorgia Meloni, già un ministro che dovrebbe essere abolito in un paese normale, l'idea che c'è un ministro della gioventù, oggi Berlusconi invece pensa di fare il ministro della vecchiaia, ma in questa specie di follia in cui non so chi sia più o meno folle, l'idea di vedere Salvini con le bandiere rosse della camusso in piazza è una cosa che io spero che sia sbagliato quello che oggi il giornale ha scritto o che Salvini ci ripensi. Molto belli due pezzi sulle fake news che è la moda del momento, cioè che in realtà potremmo tradurre in maniera molto meno colta, le bufale. La prima bufala è rivelata da Roberto Perotti sulla Repubblica, che è un giornale sempre più leggibile, poveracci, non per quello che scrivono ma per la forma con cui questa riforma grafica, a cui non mi sto abituando, mette le notizie. Perotti scrive una cosa incredibile e cioè fa i conti su quanto veramente l'Italia avrebbe perso con l'EMA. Abbiamo perso, dice Perotti, 100-200 milioni, non i 2 miliardi che stiamo dicendo e che sono scritti in tutti i giornali, 2 miliardi di de che, dice Perotti. Questa è la vera fake news. Lui ha fatto il calcolo che ci saranno, ci sono circa 800 dipendenti che si sarebbero dovuti trasferire in Italia, quindi per 80 mila di stipendio medio si tratta di 70 milioni di reddito di questi dipendenti, che peraltro non sono italiani. A questi si prevedono 36 mila visitatori all'anno in più aggiuntivi per l'esistenza dell'EMA. A 400 euro l'uno si tratta di altri 70 milioni. Poi il funzionamento di questa macchina è di 30 milioni, bollette e non bollette, quindi dice Malcontati sono 200 milioni che abbiamo perso, non 2 miliardi. E poi aggiungo un'altra cosa che non sapevo a beneficio di tutti quanti voi che vi siete lamentati come sottoscritto di aver perso l'EMA alla monetina. L'81% dei dipendenti, dei 900 dipendenti dell'EMA preferivano andare ad Amsterdam e solo il 69% volevano venire a Milano, quindi anche quest'altra balla che si diceva che volevano venire tutti a Milano perché è la città più accogliente d'Europa, io adoro Milano, è una balla. Poi dopo si può discutere sulla monetina, sulla sfiga, su aver perso con Amsterdam, quello che volete voi. Ma insomma ridimensioniamo le cose. Bellissimo il pezzo come sempre di Ricolfi sul Jobs Act, qua dice Ricolfi mettiamoci d'accordo, abbiamo non creato un milione di posti di lavoro negli ultimi 4 anni grazie al Jobs Act e sul messaggero ci spiega che un milione di posti di lavoro sono stati creati, che il 50% di questi è precario, ma che il tasso di precarietà in Italia sui lavoratori dipendenti pari al 15% è ancora un tasso di precarietà inferiore al resto d'Europa, alla Germania, ma addirittura inferiore a Spagna, Francia, quindi di che stiamo parlando, dice Ricolfi. La precarietà esiste, il milione di posti di lavoro è stato creato, ma certamente, e questo è il punto fondamentale, perché non c'è nero e bianco, ma ci sono le sfumature di grigio e Ricolfi le coglie, ma certamente aggiungere Ricolfi non è che questo milione di posti di lavoro derivi dal Jobs Act soltanto, o meglio abbiamo iniziato a fare nuove assunzioni, ma nel resto, nel resto, poi Lucio ti spiego l'81 più 69, nel resto d'Europa l'occupazione è cresciuta molto più che in Italia, nel resto d'Europa l'occupazione è cresciuta molto più che in Italia, quindi non si può dire che Jobs Act abbia avuto questi effetti dirompenti, come dicono i denziani. Lucio Biondi mi dice come si può dire che l'81% dei dipendenti dell'EMA preferisse Amsterdam e il 69% Milano, perché 81 più 69 non fa 100%, con la stessa logica Lucio, com'è possibile che al primo turno l'Italia abbia preso, Milano abbia preso 25 voti e sempre al primo turno mi sembra Amsterdam ne abbia presi 20, cioè la somma fa 45 e sono 27 i membri dell'Unione Europea, il punto è che le preferenze vengono date e ne puoi dare più di una, quindi se tu puoi dire quante persone mettono a primo posto Amsterdam, quindi ogni persona aveva più preferenze, quindi per quello i numeri sono 81% e 69% di preferenza di Amsterdam, cioè il primo è Amsterdam, il secondo è Milano, ognuno dei dipendenti dell'EMA aveva più possibilità di risposta a questo quesito. Interessante poi anche il pezzo di Seghezzi e Tiraboschi, perché non sono due pericolosi socialisti, hanno un taglio liberale come me sul lavoro e sullo sciopero che sta avvenendo ad Amazon, obiettivamente dicono che è uno sciopero che ha delle ragioni, non sono quegli scioperi dei trasporti del venerdì, sono quegli scioperi che hanno un grande senso perché l'azienda non ha voluto discutere con i propri dipendenti, cioè l'atteggiamento arrogante di Amazon nei confronti dei dipendenti la paga, le relazioni industriali si fanno con dialogo oggi, non più come avveniva nell'Ottocento, insomma Seghezzi e Tiraboschi oggi sul foglio vi spiegano come in realtà non si possa catalogare lo sciopero dei dipendenti, dei 4 mila dipendenti di Amazon di una parte perché sui numeri c'è una grande battaglia dei numeri sull'adesione, quello sciopero non si può catalogare come uno sciopero come spesso facciamo noi nei confronti dei cittadini quando c'è lo sciopero del venerdì dei trasporti, è uno sciopero molto più articolato e da comprendere. Molto buona la notizia sul fatto che sono state ridotte su 187 prodotti i dazzi dalla Cina, queste sono le cose importanti, capisco la preoccupazione, non inizia da approfondire, ma Salvini, Federica, Maroni, Zaia, stiamo parlando della questione di Salvini in sfilata con le bandiere rosse della Camusso, ce lo voglio proprio vedere. Comunque dicevo che dopo la visa di Trump, casualmente la Cina abbatte 187 dazzi sui prodotti, oggi c'è mi sembra Marenzi che è del sistema in modo italiano che si dice compiaciuto perché obiettivamente potremo vendere di più in Cina, voi dovete sapere che lo sbilancio tra quanto importiamo dalla Cina e quanto vendiamo in Cina noi italiani è 12 miliardi, quindi la possibilità di avere l'apertura un po' più forte nei confronti della Cina ci potrebbe dare la possibilità di vendere più merce, quindi questo è uno di quei dati epocali, la riduzione delle dazi vale molte altre cagate che oggi i giornali non raccontano, ma che noi dobbiamo ricordare. E a proposito di stupidaggini, quelle di Zero Calcare sono riprese soltanto da Repubblica, fa le vignette su Facebook, ovviamente riprese dal suo house organ che è Repubblica, come è normale, il mio house organ nel giornale, ci scandalizziamo per uno spinello a scuola e non ci si rende conto che a Roma pippano tutti. Intanto voglio sapere chi sono tutti questi che pippano, caro Zero Calcare, gli amici tuoi, i tuoi amici con cui fai le vignette, perché Roma è fatta da 3-4 milioni di abitanti e non penso che pippino tutti, mentre penso che la diffusione della droga al Virgilio sia un po' più widespread di quanto lo sia la cocaina nella totalità di Roma. Poi magari sì, tra gli amici di Zero Calcare ci sono tutti quelli che pippano, però insomma mi sembra un po' apodittica questa sua giustificazione del Virgilio che dice il Virgilio è una delle scuole. La difesa del Virgilio da parte di Fighetti continua sempre, l'attacco nei confronti di Scalfari da parte dello strillone del Movimento 5 Stelle, cioè Travaglio è continuo, lo strillone oggi ci ritorna facendo 10 domande a Scalfari, proprio non gli va giù che Scalfari non voglia, non preferisca Di Maio a Berlusconi. L'ultimo pezzo, vi segnalo da leggere, è il direttore del giornale Sallusti che prende a randellate Saviano, diremmi di randellate metaforiche perché Saviano è veramente un cialtrone. Quando ieri Berlusconi, non Berlusconi, quando sul processo Berlusconi a Strasburgo Sallusti ha detto fate presto, si riferiva a un titolo del Sole 24 Ore quando Berlusconi nel 2011 doveva essere cacciato, allora il Sole 24 Ore, geniale della Confindustria, disse fate presto, cacciate Berlusconi perché non ce la facciamo più. E oggi, ieri, anzi nel suo fondo, Sallusti dice fate presto a giudicare Berlusconi a Strasburgo scimmiottando quel titolo del Sole 24 Ore che era per uccidere Berlusconi. Saviano che non capisce nulla dice ma guardate che quel fate presto l'ultima volta fu scritto sui giornali per il terremoto dell'Irpinia e riguardava il fate presto, come si permette quel cretino e quello sciacallo di Sallusti di associare il terremoto dell'Irpinia alla questione giudiziaria di Berlusconi e oggi ovviamente Sallusti gli risponde da per suo dicendo che non solo è un celtrone ma che forse deve andare in un centro di disintossicazione Saviano perché il fate presto era uno sfottò legittimo ovviamente di Sallusti rispetto a quel titolo del Sole 24 Ore che guarda caso non riguardava l'Irpinia ma proprio Berlusconi. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento al mio sito dove ci saranno tante cose oggi che pubblicherò nicolaporro.it quindi fateci un salto e condividete più che potete questa rassegna perché da un po' di tempo a questa parte la diretta non viene notificata, ci sono tante persone che si sono lamentate che questa diretta non riceve le notifiche, quindi voi che seguite il sito, 160.000 persone che mi seguono su Facebook non hanno la notifica porro, la zuppa di porro in diretta. Mi spiace, questo è un problema, ve lo potete anche non vedere in diretta, però condividendo sempre di più questa rassegna probabilmente faremo capire a Facebook che il seguito è sempre elevato. Ciao!